molto dura per il mio matrimonio, per il mio rapporto con Maria e con i bambini quando ero governatore. E ho anche vissuto nella negazione di molti dei problemi esistenti. Io e Maria andavamo in terapia una volta alla settimana e in una delle sedute il terapista disse, credo che oggi Maria voglia parlare di qualcosa di molto specifico. Vuole sapere se lei è il padre di Joseph. E è stato come se il mio cuore si fosse fermato. E poi ho detto la verità. Sì, Maria, Joseph è mio figlio. Lei ovviamente era distrutta per questo. Ieri sera Maria Schreiber e Arnold Schwarzenegger hanno dichiarato di essersi separati dopo 25 anni di matrimonio.